C'è una foto già iconica che deve già comparire nei libri di storia del Milan all'ultima pagina per ora e poi chissà un giorno si vedrà. È la foto realizzata alla presentazione di questo libro l'altro giorno c'è solo un presidente dedicato a Silvio Berlusconi con Marco Van Basten e Adriano Galliani per il Milan di fine anni Ottanta quello indubbiamente più bello e Furlani e Camarda che rappresentano il Milan di adesso. Oggi è soltanto l'ultima riga della storia del Milan in questa foto ma chissà magari la speranza di tutti i tifosi è che possa diventare anche un fantastico meraviglioso passaggio di consegne dal numero 9 di tanti anni fa il più bello della storia del Milan Van Basten appunto al numero 9 del futuro questo ragazzo Camarda che per ora sembra veramente mantenere tutte le premesse anche se non va trattato con troppa fretta va maneggiato con cura ma ne parlo tra poco intanto se vi piace questo canale iscrivetevi naturalmente attivate la notifica commentate anche questo video perché proprio in occasione di quella incontro di quella foto ho notato un comportamento assai responsabile da parte del ragazzino Camarda perché Van Basten gli ha chiesto quanti anni hai? 16 gli ha risposto giochi già in prima squadra? Mi alleno ma io sono qui soltanto per ricevere la tua benedizione mi ha detto Camarda a Van Basten ecco mi è sembrata molto rispettosa molto elegante e anche intelligente l'atteggiamento di Camarda ma fresco di un rinnovo di contratto che indubbiamente lo pone ancora di più al centro dell'attenzione mediatica dei tifosi del calcio internazionale Van Basten gli ha risposto io alla tua età non giocavo in prima squadra e in questo sorriso, perché così si è concluso con un sorriso ho notato anche da una parte l'esperienza di Adriano Galliani e dall'altra l'inesperienza di Giorgio Pursani cioè l'amministratore delegato del grande vecchio Milan l'amministratore delegato ossio, come si dice adesso, del nuovo Milan alla vigilia di un appuntamento in cui ci sarà comunque da esibire tutte le capacità di mercato dialettiche, diplomatiche, commerciali e di trattativa che riporta in qualche modo a un paragone con Galliani non dei più felici quindi attenzione, quello che sto per dire non è soltanto un elogio di Galliani che conosco dal 1987 no no, sto per dire un affare che andò a finire male e poteva rappresentare una svolta per la storia del Milan di sicuro rappresentò una slide indoors in favore della Juventus l'affare Tevez perché al tavolo della trattativa un pomeriggio di tanti anni fa a Parigi ma con una foto che era già stata scattata nelle vacanze in Brasile dell'estate precedente c'erano Adriano Galliani Carlo Stevez un intermediario italiano e anche Kia Jorap Chan un nome quasi impronunciabile quasi sconosciuto allora era il signore che aveva la procura e il mandato a concludere appunto per conto di Carlo Stevez che succede quel giorno? ah perché ve ne parlo? perché Kia Jorap Chan è lo stesso personaggio che compare adesso nella storia di Zirk Zee allora quel giorno succede che si mettono d'accordo è tutto fatto c'è l'accordo sul contratto c'è l'accordo anche sulla commissione molto onerosa per Kia Jorap Chan e c'è però a un certo punto una telefonata che arriva dal compianto Silvio Berlusconi da Villa San Martino ad Arcore stoppate tutto perché Pato non va via perché era una situazione per cui Tevez sarebbe arrivato ma i soldi per acquistare Tevez sarebbero stati corrisposti dalla cessione di Pato al Paris Saint Germain se non sbaglio comunque Pato si era appena fidanzato con la figlia di Berlusconi Barbara e perciò Berlusconi padre non se la sentì ma non venne mai detto che il motivo era per la figlia venne sempre detto che comunque lui credeva più in Pato che non in Tevez di conseguenza a distanza di pochi mesi Tevez andò alla Juventus e lì si verificò la sliding doors per cui si passò dal Milan che aveva vinto lo scudetto e continuava a costruire una squadra assolutamente competitiva a Juventus che da Tevez in poi vince, anzi continua a vincere i suoi famosi nove scudetti si ritrova Kia Jorab Chan in una situazione assai simile perché Zierkse può decidere del proprio futuro ma c'è una commissione da pagare, una mediazione da pagare e non pensate che siano soldi soltanto dell'avido mediatore di origine iraniana se non sbaglio Jorab Chan perché sono soldi che nel contesto di una trattativa vengono assolutamente condivisi e approvati dal giocatore e anche dalle società il Milan non può farsi sfuggire Zierkse che pure, attenzione, è un giocatore olandese per il quale Van Basten non stravede in ogni caso il Milan si trova in un momento simile rispetto a quello vissuto tante volte da Berlusconi e da Galliani cioè il momento in cui c'è da fare degli acquisti importanti per rivitalizzare la squadra e anche un po' l'umore dei tifosi a partire dall'allenatore no no perché anche il Milan degli anni migliori comunque partiva dai giocatori non partiva dall'allenatore anche se naturalmente sa che è stato il rivoluzionario per eccellenza del calcio Capello ha seguito la sua strada e poi con Ancelotti sono state sublimate altri acquisti, altri giocatori un altro Milan eccetera eccetera proprio da questo libro a un certo punto c'è un racconto di Cristian Panucci sapete l'ex giocatore che ha giocato poi dappertutto e che adesso è opinionista a Mediaset ecco Cristian Panucci arriva al Milan a 19 anni è uno degli acquisti più giovani arriva dal Genoa dove era un giocatore al minimo di stipendio lo stipendio dei ragazzini prendeva Berlusconi gli dà già un ingaggio notevolissimo e poi dopo qualche tempo si informa come si comporta Panucci bene in alleamento si impegna è bravo e poi che cosa fa? no no come vive? come spende i soldi? e gli raccontano che Cristian Panucci il primo anno di stipendio l'ha subito destinato all'acquisto della casa per i suoi genitori Berlusconi si informa verifica è vero il giorno dopo dice a Galliani convoca Panucci in sede Panucci riceve questa telefonata vieni in sede alle tre ti aspetta Galliani lui si presenta lì e viene raccontato qui dopo un centinaio di pagine di questo libro Panucci vede Galliani Galliani gli dice tu il primo anno di stipendio l'hai investito tutto per la casa dei tuoi genitori? e il ragazzo dice sì ma che ho fatto di male? niente hai fatto benissimo perché il presidente Silvio Berlusconi ti dà un aumento praticamente ti raddoppia lo stipendio questo per dire che i soldi non sono tutti uguali i soldi per Camargo potrebbero anche essere giusti anzi secondo me lo sono giusti perché sono figli comunque di una trattativa di mercato di una contrattazione ma dipende anche come verranno gestiti amministrati e anche interiorizzati da un ragazzo che ha 16 anni e si ritroverà lui e la sua famiglia con delle disponibilità economiche che possono anche creare qualche piccolo scompenso diciamo così psicologico dipenderà dalla società quanto riuscirà a stargli vicino a stargli accanto e ad essere come con Panucci tanti anni fa ritornando a quella foto Marco Van Basten arrivò al Milan anche per una questione di soldi perché lui i suoi procuratori meglio prima di arrivare al Milan aveva firmato un precontratto con la Fiorentina poi però si presentò Berlusconi la Fiorentina era in un momento di difficoltà il direttore sportivo di allora Claudio Nassi non aveva più la fiducia della famiglia Pontello che stava per lasciare la Fiorentina insomma successe quello che successe e Van Basten andò al Milan naturalmente con sua grandissima soddisfazione con più soldi guadagnando più soldi però poi si è trattato non di una spesa ma di un investimento quello che sicuramente il Milan farà con Camarda e quindi non scandalizziamoci per lo stipendio di Camarda non scandalizziamoci nemmeno per la mediazione richiesta dal procuratore perché è evidente che in una situazione così si verifica una legge di mercato sempre esistita se vuoi un giocatore paghi quello che è l'offerta più alta sul mercato il Milan ha bisogno di Zerzè e ha bisogno anche di pagare una commissione molto elevata poi ci sono le slide indoors o vi ho parlato di quella che portò Tevez a distanza di qualche tempo alla Juventus ecco pensate Zerzè alla Juventus che beffa sarebbe per il Milan vi ho parlato anche di Van Basten al Milan ecco un giorno l'ha raccontato Van Basten Gianni Agnelli storico avvocato e presidente della Juventus vide Van Basten a St. Moritz e gli disse sai io avrei anche preso volentieri te però invece mi hanno fatto prendere Jan Rush che era un gallese fortissimo del Liverpool che arriva in Italia e non si ambienta in questo senso ritorno anche all'empatia la partecipazione che deve comunque guidare ogni scelta della società anche se affidata a un fondo perché poi ci sono le persone operative in questo senso vi dicevo ritorno alla foto iconica ultima riga della storia del Milan almeno fino ad ora e ho visto in Camarda un approccio da chi si rivolge a Van Basten e dice mi basta la tua benedizione e poi tutto quel che c'è da imparare io sono qua invece da parte di Furlani nei confronti di Galliani c'è un atteggiamento di chi è un giovane figlio della Bocconi dei suoi studi di tutti i master ma forse con una dimenticanza che l'esperienza nel calcio si fa dentro il calcio e l'esempio è cambiando squadra Marotta che diventa presidente dell'Inter pochi giorni fa dopo essere partito da tuttofare fattotum magazziniere del Varese ecco il Galliani che adesso vedete senatore che viene raccontato come braccio destro di Berlusconi quando Berlusconi prende il Milan non è un neofita uscito dalla Bocconi o da chissà quale altra scuola per il calcio è uno che ha maturato esperienza nel Monza e in questo senso ripeto non vuole essere un'offesa né tantomeno una critica a Furlani mi sembra che l'approccio di questo Milan attuale sia un po' leggero diciamo così come esperienza di uomini di calcio e non mi riferisco solo alla scelta dell'allenatore per esempio ecco poi magari tra qualche giorno qualche settimana o qualche mese anche questo video apparterrà alla storia da rinnovare con altre pagine e con Furlani che mi avrà smentito